Musica Le 20.30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG2000. Si è concluso dunque il colloquio fra il leader del Movimento 5 Stelle di Maio e il presidente del Senato Casellati. Il leader pentastellato si è detto disponibile a considerare non ostile, queste le parole usate, il sostegno di Fratelli d'Italia, Forza Italia, ma ha ribadito la posizione del partito di formare un governo solo con la Lega. Allora facciamo il punto su questo secondo giro di consultazioni a Palazzo Giustiniani con Augusto Cantelmi in collegamento con noi. Eccoci, buonasera a tutti qui da Palazzo Giustiniani. Come nel gioco dell'Oca siamo tornati al punto di partenza di fatto, perché qualche passaggio in avanti nel pomeriggio sembrava essere stato fatto, soprattutto dopo le dichiarazioni di Salvini che diceva ci sono segnali di un'intesa per un governo di programma con il Movimento 5 Stelle. Un Salvini particolarmente sorridente, anche ottimista. Poi sono arrivate le parole di Di Maio che ha incontrato la Casellati. Ma andiamo a sentire come ha risposto Di Maio. Abbiamo messo tutte le nostre forze nell'interlocuzione con una persona che è leader del centrodestra, ma è anche leader di un'unica forza politica, che è la Lega. Stiamo provando in tutti i modi a far capire che vogliamo dare un governo a questo Paese. Siamo disponibili anche a considerare non ostile il sostegno di Forza Italia e Fratelli d'Italia a questo contratto di governo, ma firmato da me e da Salvini è ovviamente un governo che si forma su questo contratto formato e firmato da due persone che rappresentano due forze politiche. Ed è per questo che con molta onestà vi dico che andremo avanti, ma senza pensare a colpi di scena che possano addirittura immaginare Di Maio al tavolo a quattro o Di Maio in un governo, tra l'altro senza la presidenza del Consiglio dei Ministri, con dentro anche altri ministri che vengono da tre forze politiche diverse. Immaginatelo un attimo e chiedetevi se il Movimento 5 Stelle possa essere disponibile ad una cosa del genere. Non lo è mai stato perché non lo sono mai stati i nostri elettori, i nostri attivisti e non credo che potrà mai esserlo il capo politico di una forza politica come la nostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salvini che dice che l'accordo si fa con tutto il centrodestra e non soltanto con la Lega e si dice pronto anche ad impegnarsi direttamente, magari a ricevere un incarico. Domani da Mattarella invece salirà la Castellati per riferire come sono andate le consultazioni. L'idea è che quella che in qualche modo si è guadagnato ancora un po' di tempo perché la porta del dialogo, come abbiamo sentito, non è ancora chiusa. Ricordiamo che domenica si vota in Molise e poi il 29 in Friuli Venezia. Giulia, due appuntamenti elettorali che possono condizionare il cammino. Con questo è tutto da Palazzo Giustiniani, linea allo studio. Grazie, grazie. Allora a te Augusto Cantelmi, buon lavoro. Ma questa è anche la vigilia del viaggio del Papa in Puglia nei luoghi di Don Tonino Bello, Alessano e Molfetta. Partiamo allora dal Salento dove Francesco farà la prima tappa e dove per noi c'è Paolo Fucili che ci racconta l'attesa degli abitanti del comune che ha dato i Natali a Don Tonino. 20 aprile 93 è scritto sulla nuda lapide bianca, vigilia di laboriosi preparativi ad Alessano, Puglia, in fondo al tacco dello stivale per l'anniversario numero 25 della morte del figlio più illustre di questa terra, Don Tonino Bello, il vescovo della chiesa del Grembiule, la chiesa che lui sognava. Francesco non lo conobbe da vivo, certo è che ne avrebbe ammirato il carisma, tant'è che ha deciso di venire proprio qui domani a pregare su questa tomba. L'area allestita con palco, sedie, transenne accanto al cimitero del paese è pronta ad accogliere fino a 30.000 persone in arrivo da tutto il Salento. La piazza centrale del piccolo borgo, 6.000 abitanti, appena dista pochi chilometri. Qui c'è la casa dove abitò il giovane Tonino, una vocazione precoce fu la sua, da prete e poi vescovo di strada si capiva già che sarebbe stato. Mi ricordo anche quando lui col suo ciao, il motorino Piaggio, che si spostava per i paesi. Che prete era Don Tonino? Era un prete che era sempre con i giovani. Arrivo ore 8.30, partenza soltanto un'ora dopo, ma nulla toglie comunque all'eccezionalità dell'evento. Atmosfera elettrica in paese, roba da non credere anche per il parroco che di Don Tonino fu allievo in seminario. Vediamo incarnato in Papa Francesco il magistero, soprattutto la testimonianza di Don Tonino. Questo ci fa piacere, una chiesa in uscita, una chiesa povera per i poveri che deve lasciarsi evangelizzare dai poveri. Dopo Alessano Francesco si sposterà a Molfetta. Nicola Ferrante ci racconta il clima della cittadina vicino Bari dove il Papa celebrerà la messa. L'elicottero che domani porta Francesco a Molfetta prova l'atterraggio sul molo Sant'Andrea. Visita breve ma grande l'attesa. Significativo il dispiegamento per garantire ordine e sicurezza, ma anzitutto sarà una festa. Ampio il tragitto previsto per la Papa Mobile dal molo dell'atterraggio fino alla villa comunale, passando davanti alla cattedrale. Ultima tappa il palco su cui si tiene la celebrazione eucaristica. Attendiamo la visita del Papa. Noi siamo i figlioretti che vivono lontani, dal centro e dal cuore della Chiesa. Sapere che il Papa prende l'iniziativa per venire a trascorrere da noi qualche ora sui passi di questo grande pastore che è stato per noi Don Tonino Bella. È una gioia che non si può descrivere. I ricordi di questo pastore carico del profumo del popolo, come direbbe Papa Francesco. Sicuramente l'anello di trasmissione tra una generazione che ha conosciuto felicemente Don Tonino e la generazione di oggi. L'ulivo e il suo legno, simbolo di pace, adornano tutta la liturgia e sarà commovente vedere Francesco stringere fra le mani il pastorale che fu di Don Tonino, anch'esso in legno d'ulivo, per essere il più possibile simile a un vincastro, il bastone del buon pastore con l'odore delle pecore. Una visita che naturalmente seguiremo insieme, in diretta, a partire dalle 8 di domani mattina, ecco la grafica che ce lo ricorda, lo speciale del diario di Papa Francesco, poi alle 8.30 l'incontro del pontefice con i fedeli di Alessano, alle 10.15 la messa celebrata appunto dal Papa nel porto di Molfetta. Cambiamo argomento, stamattina è stato presentato al Gemelli a Roma un rapporto secondo cui in Italia cresce l'aspettativa di vita e diminuiscono le vittime di tumori, ma questo accade soprattutto al nord. Beatrice Bossi La buona notizia è che l'Italia è tra i paesi più longevi d'Europa. Quella cattiva è che nel nostro paese vecchiaia significa troppo spesso mancata autosufficienza. Tradotto si vive di più, ma non così bene. Merito da una parte della prevenzione e colpa dall'altra di sbagliati stili di vita e di un sistema sanitario non sempre all'altezza. Il rapporto Osserva Salute 2017 lo scrive, nero su bianco, sciorinando i numeri e dati. E alla fine si scopre che il segreto della longevità è la prevenzione. Laddove c'è, la salute è garantita. Dove si fanno i programmi di prevenzione oncologica, cioè dove la mammografia non la devi aspettare per un anno, ma dopo poche settimane la puoi fare gratuitamente, questo salva la vita. Dove questo non si fa, purtroppo, la responsabilità dei gestori significa che invece di salvarle, le vite non vengono salvate e ci sono morti evitabili. Si conferma quindi ancora un'Italia divisa a metà, dove il nord accumula eccellenze, il sud arranca e i pazienti migrano da un ospedale all'altro. A pesare poi sulla salute degli italiani ci sono anche sbagliati stili di vita. Nel 2016 più di un terzo della popolazione adulta risulta in sovrappeso e rispetto al 2015 non è diminuito neanche il numero di fumatori. Cattive abitudini e condizioni che si fanno sentire soprattutto in età matura. L'11% degli ultra 65 anni italiani ha difficoltà infatti a mangiare, sedersi o andare in bagno autonomamente. Ebbene il 30% invece a fare la spesa o a lavare casa. Nel caso delle donne italiane significa che intorno ai 60-65 anni cominciano a emergere problemi sanitari. La qualità della vita è importante. Un'altra fotografia delle carceri italiane l'ha scattata. L'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone, secondo cui diminuiscono i reati, ma torna all'affollamento dietro le sbarre. Marco Burini. Avete presente quei documentari su Marte o Saturno, pieni di cifre e di schede che cercano di renderci familiari coi mondi lontani? Bene, stavolta parliamo di un pianeta ancora più sconosciuto e distante, le carceri. Qualche numero. Malgrado le sentenze a livello europeo, in molte prigioni italiane i detenuti hanno a disposizione meno di tre metri quadrati a testa e in quasi la metà delle celle manca l'acqua calda. Figuriamoci gli spazi per momenti di intimità con partner e familiari, previsti dalla legge ma praticamente inesistenti. Attenzione, non tutti quelli che sono in carcere stanno scontando una pena. Uno su tre è in attesa di sentenza definitiva. Dieci anni dopo la riforma della sanità penitenziaria, il tasso dei suicidi è aumentato. Questo, e molto altro, non smentisce forse l'articolo 27 della Costituzione? E questo dato sugli stranieri non smentisce la propaganda quotidiana? Parole, numeri. Qui diamo i numeri, forse perché le parole, pena, umanità, rieducazione, ci sembrano così usurate. Numeri presi dal quattordicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone, che merita di essere letto per intero, pieno com'è di osservazioni puntuali e concrete. Sul personale penitenziario, ad esempio. Nessuna riforma, dicono quelli di Antigone, potrà mai avere buon esito se non si andranno ad assumere almeno 200 giovani direttori e direttrici, nonché mille educatori ed educatrici, da formare secondo la Costituzione e le norme europee. Ma un paese in campagna elettorale permanente non ha nessuna voglia di occuparsi di questa roba. Meglio chiudere un occhio, anzi due. Ero in carcere e non siete venuti a trovarmi. La cronaca ci porta in Sicilia, a Castelvetrano, vicino Trapani, dove è stato inflitto un duro colpo alla mafia. 21 persone sono state arrestate, tutte legate al boss Matteo Messina Denaro. Fra questi anche due suoi cognati. Il ventiduesimo provvedimento è stato emesso proprio nei confronti del superlatitante. Associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, detenzione di armi, intestazione fittizia di beni, i reati contestati tutti, aggravati dalle modalità mafiose. In chiusura vi portiamo ad Abano Terme, vicino Padova, per raccontarvi alcune storie di solidarietà che riguardano i giovani. Anche di loro si è parlato nel quarantesimo convegno nazionale Caritas. Per noi c'era Fabio Bolzetti. I giovani una comunità che condivide. Le Caritas diocesane, sino ad oggi riunite con oltre 600 operatori al convegno nazionale di Abano Terme, ripartono dalla sfida della chiesa di oggi, vicino all'appuntamento del sinodo, dedicato alle nuove generazioni. E il prossimo appuntamento sarà Matera 2019. Bene, sì, una bella prospettiva, dice la novità e prende l'eredità di questo bellissimo quarantesimo convegno nazionale dedicato alla comunità, ai giovani nella comunità e a quanto questi due termini significano attraverso la condivisione. Così innovative sono le storie di solidarietà sbocciate sul territorio, grazie all'esperienza Caritas. Siamo lì per dare un senso a tutto quello che fanno, per dire che ogni cosa che loro fanno nella loro vita, anche il sabato sera, deve avere un senso. Ci deve essere un senso, devono usare la testa, deve essere un divertimento consapevole. Divertimento sicuro dunque, ma presente anche nella comunità ecclesiale che non deve escludersi. Come il circo, organizzato in una parrocchia per ricordare la semplicità di un sorriso e l'importanza delle relazioni. Allora, il circo in parrocchia è un'idea nata tanti anni fa, quando con il nuovo progetto pastorale Cristiani non si nasce e si diventa, la loro alcivescovo ci chiedeva di riflettere su come comunicare la fede. E c'è chi capta esperienze di successo, magari poco conosciute, per tornare a casa a convegno concluso e applicare così modelli virtuosi. Siamo andate alla ricerca di progetti innovativi, di innovazione sociale, in giro per l'Italia, con una piccola tappa anche in Europa, in Grecia, insieme ad altre diocesi, caritas diocesane italiane e soprattutto a 50 giovani che con noi sono venuti in giro per l'Italia. Mi fermo qui ma vi lascio in compagnia di Donatello Vaccarelli e TGTG, state con noi, buonasera. Grazie a tutti.